La Chiesa insegna Uno sguardo cattolico all'attualità per una vita all'insegna della verità. Buongiorno e bentrovati a questo nostro consueto appuntamento con la Dottrina Sociale della Chiesa. Quest'oggi desidero parlarvi di un tema allo stesso tempo preoccupante ma anche necessario, ovvero sia la crisi del nostro continente, la crisi dell'Europa. Crisi che, dato il tipo di studio che affrontiamo, cioè quello della Dottrina Sociale della Chiesa, non sarà considerata la crisi dell'Europa da un punto di vista meramente economico, politico o strategico, ma con quel particolare taglio prospettico che ci è dato dalla dottrina cattolica. Quindi sarà uno sguardo che andrà alla profondità delle ragioni che stanno dietro questa crisi. Quindi sarà uno sguardo che in qualche modo ci consentirà di parlare di una crisi proprio della civiltà del nostro continente. Questa mia proposta nasce anche dal sedicesimo rapporto sulla dottrina sociale curato dall'Osservatorio Vantuan. Qui vi faccio intravedere il volume. Come forse voi saprete, l'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan, istituzione fondata dall'Arcivescovo Crepaldi, vent'anni orsono, in memoria del defunto Cardinale Vantuan, ha come suo scopo quello di studiare e promuovere la dottrina sociale della Chiesa. In questa sua attività annualmente cura un rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo. Ogni anno questo rapporto, ormai è il sedicesimo anno che l'Osservatorio si impegna in questa opera, dicevo ogni anno il rapporto si focalizza su un particolare tema. Quindi, per esempio, un anno magari si affronta il tema dell'immigrazione, un anno si affronta il tema delle guerre, un anno si affronta il tema, non so, della ideologia green, eccetera. Cioè ogni anno si affronta un tema di carattere ovviamente sociopolitico e lo si analizza nella prospettiva mondiale, quindi si va a vedere un po' come si dà questa tematica nei diversi paesi del mondo e il tutto viene valutato, giudicato, alla luce di quella che è la dottrina cattolica. Bene, quest'anno l'Osservatorio ha scelto di affrontare il tema proprio della crisi dell'Europa. Voi mi direte, ma questo non è un argomento mondiale, perché appunto riguarda solo l'Europa. In realtà è un argomento mondiale se noi pensiamo al fatto che almeno l'America del Nord, l'America del Sud e l'Oceania, e in buona parte anche l'Africa, sono realtà plasmate dall'Europa. Cioè se noi pensiamo alle Americhe, all'Oceania e, ripeto, in buona parte anche all'Africa, noi ci accorgiamo che la cultura politica, economica, ma anche la cultura letteraria, filosofica, eccetera, che è presente, che è quella di matrice europea. Perché? Perché sono realtà che sono state fortemente segnate dalla presenza europea, coloniale o meno che fosse. Quindi, forse con l'eccezione dell'Asia, e nemmeno di tutta l'Asia, ma potremmo dire che tutto il mondo è in qualche modo figlio dell'Europa, almeno negli ultimi mille anni. Quindi, parlare di crisi dell'Europa significa sostanzialmente parlare di crisi di un modello, di un modello globale. Quel modello che sostanzialmente ha come paradigmi la cultura, le lingue, la visione politica, economica, eccetera, nate e cresciute in Europa. Ecco perché possiamo dire che la crisi dell'Europa è un argomento mondiale, globale. Perché il modello europeo esiste ben al di fuori dell'Europa, nel senso che se noi pensiamo, ad esempio, a le idee principali della civiltà europea, noi le troviamo negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in molti paesi africani, le troviamo in Australia, le troviamo in Neo Zelanda, le troviamo, ce le troviamo, e dicevo, in fondo le troviamo anche in alcuni paesi dell'Asia. Quindi anche l'Asia, in fondo, è segnata dall'Europa. Ecco, però tutto questo è in crisi. Il rapporto, il sedicesimo rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa del mondo, proprio si intitola Finis Europee, un epitafio per il vecchio continente. Cioè, qui si fa riferimento, in maniera diretta, alla morte dell'Europa. A una morte, diciamo così, su cui ormai si può solamente prendere atto, una morte di cui si può prendere atto. L'unico aspetto, se vogliamo dire, un po' meno duro nel giudizio, è il punto di domanda, perché al posto di essere un epitafio per il vecchio continente, punto, è un epitafio per il vecchio continente, punto di domanda. Quindi si lascia aperta la questione. Però, diciamo che già averla posta, cioè avere posto il tema della morte dell'Europa, è, insomma, una scelta forte da parte dell'osservatorio. Allora, veniamo al tema proprio della crisi dell'Europa, della morte dell'Europa. Cosa significa questo? Beh, innanzitutto ci si dovrebbe prima intendere su cosa sia l'Europa. Perché? Perché uno potrebbe dire, beh, ma l'Europa è quel continente che va da quel punto geografico a quell'altro punto geografico e che ha una certa superficie, eccetera, eccetera. Ma così inteso non significa nulla, perché se noi guardiamo geograficamente, l'Europa non è altro che una penisola del macrocontinente asiatico. Uno guarda una carta geografica, non c'è sostanzialmente nessuna reale distinzione geografica tra l'Europa e l'Asia. Sì, uno dice, convenzionalmente dice i monti urali, ma è una convenzione, perché uno dice perché i monti urali non invece è un'altra cosa. In realtà l'Europa altro non è che una piccola penisola del macrocontinente asiatico. E allora uno potrebbe dire, ma allora sotto quale aspetto si deve considerare l'Europa? Beh, quando noi diciamo Europa di fatto facciamo riferimento a una civiltà. E allora ci si deve chiedere, ma quale civiltà? Perché anche qui non è scontato. Ad esempio, nel mondo antico non c'era un concetto di Europa. Perché? Perché ad esempio l'impero romano, prendiamo l'esempio dell'impero romano, l'impero romano non si considerava affatto un qualcosa di europeo. Perché? Perché il suo, potremmo dire, baricentro, il centro attorno a cui si sviluppava era il Mediterraneo. L'impero romano considerava l'Egitto, per esempio, o l'attuale Tunisia o l'attuale Algeria, molto più vicine a sé, addirittura da cui fare parte dell'impero romano da una certa data in poi, ad esempio che non dei territori che oggi noi consideriamo europei, ma che all'epoca erano considerati proprio mondo barbaro, cioè proprio neanche considerati, erano mondo fuori dalla civiltà, come ad esempio il Nord Europa o l'Europa dell'Est, eccetera, eccetera. Quindi l'idea dell'Europa non ha radici classiche, cioè nel mondo classico il centro attorno a cui si sviluppa l'azione politica, culturale, commerciale, eccetera, eccetera, è il Mediterraneo. Quindi tanto l'impero romano quanto anche prima, pensiamo all'impero di Alessandro Magno, quindi l'impero ellenistico, il mondo ellenistico, eccetera, ha un chiaro tratto mediterraneo. Quindi, ripeto, l'Egitto, che noi oggi nessuno di noi considera l'Egitto parte della propria civiltà, un europeo si considera ben diverso da un egiziano, ma se noi fossimo stati in epoca romana avremmo considerato l'Egitto come qualcosa di parte della nostra stessa civiltà. e mentre invece avremmo considerato l'abitante, non so, della Danimarca attuale, o della Polonia attuale, o della Germania attuale, li avremmo considerati appunto come esterni alla civiltà, come qualcosa di fuori dalla civiltà. Quindi, quando è che si sviluppa invece l'idea di una civiltà europea? Beh, con il cristianesimo. Perché? Perché con il cristianesimo cosa avviene? Avviene l'incontro, un incontro providenziale, tra la divina rivelazione, l'Antico, il Nuovo Testamento, la tradizione apostolica, quello che noi consideriamo la divina rivelazione intendendo in essa anche la matrice antico-testamentaria che però viene in qualche modo illuminata dalla luce di Cristo, quindi la divina rivelazione nella sua totalità di antico e nuovo, e la cultura greco-romana. Da questo incontro tra, potremmo dire così, la classicità greco-romana e la divina rivelazione, nasce un qualcosa di nuovo, che prima non c'era. e questo nuovo, per il momento, prescindiamo dall'aspetto strettamente dogmatico, cioè l'aspetto, potremmo dire così, relativo alle verità di fede. Parliamo da un punto di vista della civiltà, quindi da un punto di vista culturale, sociale, politico, eccetera, eccetera. Ebbene, nasce un modo nuovo di vivere, di pensare, di organizzare la vita, nasce una nuova civiltà. Questa civiltà, appunto, che possiamo chiamare civiltà cristiana, che ripeto, porta dentro di sé la classicità, cioè la civiltà cristiana presuppone l'eredità greco-romana e quindi non è semplicemente, potremmo dire così, il dato rivelato, ma è il dato rivelato, sposato, usiamo questo termine, con la civiltà classico-cristiana, con la civiltà cristiana, è classica, quindi da cui nasce la civiltà classico-cristiana. Questa civiltà, che per semplicità possiamo chiamare civiltà cristiana, cristianità, eccetera, inizialmente non ha i confini dell'Europa, perché voi certamente saprete che il cristianesimo inizialmente si diffonde seguendo quello schema mediterraneo di cui vi accennavo prima, cioè i principali centri di diffusione del cristianesimo sono sulle coste del Mediterraneo. Pensiamo a l'attuale Siria, l'attuale Turchia, l'attuale Grecia, l'attuale Egitto, l'Egitto, la costa del Nord Africa, diciamo attuale Tunisia, Algeria, eccetera, e ovviamente l'Italia e la costa mediterranea della Francia. Questi sono i principali centri di diffusione del cristianesimo. Quindi, inizialmente, il cristianesimo è un fenomeno mediterraneo, non c'è, potremmo dire, l'idea di una differenza, di una separazione, ad esempio, tra l'Europa e il Nord Africa. Un cristiano dell'Egitto o un cristiano della costa nordafricana non ha motivo per sentirsi diverso, separato, distante da un cristiano dell'Italia o della Provenza, eccetera. Quindi, inizialmente, si ripete questo schema mediterraneo-centrico. E allora, quando avviene la, potremmo dire così, la nascita di un'Europa altra rispetto al Nord Africa e altra rispetto a, potremmo dire, il Medio Oriente, Siria, Turchia, eccetera, beh, avviene in ragione della, potremmo dire così, della nascita di quel fenomeno politico-religioso che è l'Islam. Nel momento in cui l'Islam si espande nel Medio Oriente e nel Nord Africa, l'Europa diviene il continente della cristianità. perché? Perché il cristianesimo che si trovava nel Medio Oriente e nel Nord Africa si trova ad essere conquistato dall'Islam, ad essere o spazzato via o reso minoranza subordinata. Quindi, propriamente parlando, cessa la civiltà cristiana nel Medio Oriente e nel Nord Africa. non cessano i cristiani perché in alcuni casi si, diciamo così, si salvano le comunità cristiane, sopravvivono, ma sopravvivono come minoranza subordinata, quindi non ha più la capacità il cristianesimo nord-africano e medio-orientale di plasmare la società. Non è più il cristianesimo a guidare la società, a guidare le leggi, la cultura, l'economia e la politica, eccetera, ma il cristianesimo in qualche modo vive subordinatamente all'interno di una società che è ormai una società islamica. Questo cosa produce? Beh, produce ovviamente che in quelle terre il cristianesimo se permane minoritariamente, pensiamo ad esempio ai copti dell'Egitto, tanto per dire, o per dire ai maroniti dell'Ibano, eccetera, rimane, ma rimane all'interno di un quadro culturale, politico, sociale che è ormai quello islamico. Per contrasto, l'Europa, quella che noi oggi chiamiamo Europa, dovendosi confrontare e scontrare con l'Islam, riconosce come radice di se stessa, cioè come ragion d'essere di se stessa, il cristianesimo. Questo cosa significa? Significa, ad esempio, che sempre più si viene a identificare il cristianesimo con l'identità profonda, la radice dei popoli che vivono in Europa. Non che questo non fosse anche prima, ma ovviamente dove l'evangelizzazione era arrivata, perché anche qui non ci dobbiamo dimenticare che non tutti i popoli europei sono stati evangelizzati nei primi secoli cristiani. Ci sono popoli europei che hanno ricevuto il Vangelo molto tempo dopo. pensiamo solamente che i tedeschi, gli attuali tedeschi, cioè il popolo della Germania, è stato evangelizzato nel nono secolo. Quindi voglio dire, noi diamo per scontato che il cristianesimo abbia duemila anni in Europa, ma il cristianesimo ha duemila anni in Italia, ha duemila anni nella costa mediterranea della Francia, ha duemila anni in Grecia, ma non ha duemila anni in Germania, non ha duemila anni in Polonia, non ha duemila anni in Ungheria, non ha duemila anni in Danimarca, in Svezia, non ha duemila anni, cioè, questo non dobbiamo dimenticare. Quindi, ma sicuramente dallo scontro con l'Islam, diciamo così, si consolida l'identità eurocristiana, cioè il fatto di dire noi di questo continente, noi che abitiamo su queste terre, siamo i popoli cristiani e non siamo quegli altri. Quindi, mentre, ripeto, nel quarto secolo, nel quinto secolo, un abitante di Alessandria d'Egitto o un abitante di Antiochia di Siria o un abitante di Cartagine o un abitante di Ipona, non avevano nessuna differenza, potremmo dire così, né giuridica, né politica, né religiosa, né culturale, rispetto ad esempio a un abitante di Atene, di Roma o di, non so, di una qualunque, di Aquileia o di una qualunque città, diciamo, europea, perché tutti facevano parte dell'impero romano, tutti erano, diciamo, appartenenti a uno stesso ceppo culturale che era quello romano-ellenistico, ovviamente con le differenze legate, insomma, a un po' alle tradizioni locali, però la matrice culturale unificante era la cultura ellenistico-romana ed erano tutti cristiani, salvo qualche presenza ancora pagana, ma diciamo che una volta cristianizzato l'impero romano possiamo dire che erano anche tutti cristiani. Non così dopo l'insorgere del fenomeno islam, perché a quel punto lì noi abbiamo il Nord Africa e il Medio Oriente, sempre più man mano che si restringono i confini dell'impero bizantino, di fatto impero islamico, califato e quindi organizzazione politico-religiosa culturale dell'Islam e per contrasto, potremmo dire così, l'Europa viene ad essere il continente cristiano. Questo io lo sottolineo perché il cristianesimo non è un fenomeno come dire, legato a una geografia. Sì, è legato a una geografia perché il nostro Signore Gesù Cristo è nato a Betlemme, è vissuto a Nazareth, ma il cristianesimo ha in sé l'universalità. Quindi sarebbe sbagliato dire che il cristianesimo è essenzialmente come dire, la religione degli europei, perché non è vero. Il cristianesimo è la religione anche dei copti d'Egitto che sono appunto egiziani, è la religione dei maroniti del Libano che sono libanesi, è la religione degli etiopi che sono appunto africani etiopi, è la religione dei cristiani del Kerala che sono appunto indiani, eccetera, eccetera. E ho fatto tutti esempi di cristianesimi antichi, cioè di cristianesimi nati in età apostolica. Questo per dire che il cristianesimo è universale. Tutto il mondo dovrebbe essere cristiano, tutti i popoli dovrebbero essere cristiani. Come dire, nel progetto della Chiesa, nella natura della Chiesa c'è la evangelizzazione di tutti i popoli. Quindi il cinese, il giapponese, l'africano, l'eschimese, tutti devono diventare cristiani. Quindi il cristianesimo non è una religione potremmo dire geograficamente limitata, ma storicamente succede che il cristianesimo viene a identificarsi, ripeto, da un punto di vista non di principio, ma da un punto di vista storico, fattuale, con l'Europa. Perché? Perché appunto la restante parte del mondo ellenistico romano viene conquistata dall'Islam. Se non ci fosse stato il fenomeno islamico, noi avremmo ancora il Nord Africa cristiano, avremmo ancora il Medio Oriente cristiano. Cioè, se noi potessimo prendere la macchina del tempo e tornare, non so, al V secolo dopo Cristo e farci una bella passeggiata in Turchia, nell'attuale Turchia, o nell'attuale Siria o nell'attuale Iraq o appunto in Egitto, oppure avremmo trovato città cristiane. Cioè, la religione era la religione cristiana. Quindi, quel mondo cristiano lì, cioè il cristianesimo medio orientale e nord africano, è stato spazzato via dall'Islam. mentre invece l'Islam non è riuscito a conquistare l'Europa. O meglio, ne ha conquistate alcune parti, pensiamo alla Sicilia, pensiamo alla Spagna, pensiamo a una buona parte dei Balcani. Ma è stato fermato. Quindi, potremmo dire così, l'Islam ha tentato la conquista dell'Europa, ma non ci è riuscito. Questo ha fatto sì che il cristianesimo si salvasse come civiltà, cioè come unità di fede, cultura, diritto, politica, eccetera, eccetera. Cioè, non semplicemente come delle comunità che mantengono la fede, ma sono ormai minoranza in un contesto ostile, ma proprio come civiltà si salvasse nel continente europeo. Quindi, il continente europeo è stato, potremmo dire così, il baluardo, il luogo, quasi potremmo immaginarcelo come una città fortificata, una rocca, un castello, dove si è salvato all'interno il cristianesimo. Questo ha fatto sì ovviamente che il legame tra continente europeo e cristianesimo si consolidasse sempre più. Quando poi l'Europa ha avuto la forza non solamente di difendersi, pensiamo a i franchi che bloccano l'Islam sui Pirenei, pensiamo a l'Islam bloccato a Belgrado, cioè in qualche modo il fatto che l'Islam non è riuscito ad andare oltre nei Balcani, se no sarebbe arrivato anche oltre. Poi c'è stato l'assedio di Vienna quando i musulmani avevano rotto potremmo dire così le difese cristiane ed erano arrivate fino ad assediare la capitale, l'attuale capitale dell'Austria, cioè la capitale dell'impero Trasburgico e sono stati respinti. Poi i cristiani hanno riconquistato la Spagna, tutta l'epopea della riconquista ispanica nel XV secolo e conclusa nel XV secolo ma durata secoli, la riconquista della Sicilia, eccetera. A un certo punto i cristiani non sono solamente in grado di difendersi e magari anche di riconquistare alcune terre, ma l'Europa trova in sé la forza anche per espandersi, quindi non solo difendersi e magari riconquistare alcune terre come la Spagna, la Sicilia, eccetera, ma anche per espandersi e quindi c'è quella grande stagione di espansione dell'Europa fuori dai confini geografici dell'Europa al punto che molti studiosi adottano il concetto di magna Europa per intenderci per intendere l'Europa fuori dai confini geografici dell'Europa e questo comporta che l'Europa cioè o meglio i vari paesi europei gli spagnoli i portoghesi i francesi gli inglesi eccetera raggiungono altre terre e in qualche modo ne fanno parte dell'Europa e questo significa anche l'espansione del cristianesimo perché dove arrivano gli europei qui parliamo ancora di europei che erano cristiani quindi non degli attuali europei e dopo adesso arriveremo anche a parlare della crisi ma dove arrivavano gli europei nei secoli quindicesimo sedicesimo eccetera cosa facevano? beh portavano il cristianesimo non solo portavano la civiltà la propria civiltà quindi la Spagna portava la civiltà ispanica la Francia portava la propria civiltà e così via ma portavano il cristianesimo quindi costruivano chiese diciamo incoraggiavano le missioni arrivavano sacerdoti arrivavano gli ordini religiosi eccetera e quindi si evangelizzava quindi si è creato un enorme processo di evangelizzazione le Americhe l'Africa l'Oceania anche alcune zone dell'Asia eccetera pensate alle Filippine le Filippine sono un paese cattolico pur essendo un paese asiatico perché sono state spagnole cioè è stata la Spagna a cattolicizzare a evangelizzare le Filippine e così via quindi oppure pensate non so alla presenza massiccia di cattolici a Macao in Cina Macao era una colonia portoghese quindi sono stati i portoghesi a evangelizzare a rendere cattolici a fare cattolici i cinesi di Macao per dire insomma potrebbero fare centomila esempi quindi c'è stata questa enorme espansione dell'Europa che ha significato anche una espansione del cristianesimo veniamo però alla crisi perché uno potrebbe dire beh fino adesso ci hai presentato un quadro storico il conflitto con l'Islam però anche l'Europa che trova le energie per espandersi le grandi scoperte geografiche benissimo ma è la crisi la crisi quando avviene allora prima di dare questa risposta veniamo alla fotografia cioè all'oggi perché se no uno potrebbe dire ma siamo proprio sicuri di essere in crisi allora bisogna fotografare il presente il presente è quello di un continente l'Europa che ha smarrito la propria identità oggi un europeo non sa perché europeo e cosa vuol dire essere europeo sì probabilmente uno darebbe una risposta perché sono nato qui o sono nato là ma torniamo all'inizio cioè la geografia non è sufficiente non è che uno dice sono nato in Francia dunque dunque niente perché uno potrebbe anche essere nato cioè non è il mero fatto geografico da un punto di vista della identità oggi un europeo fa difficoltà a definirsi inoltre siamo di fronte a un continente che manifesta in modo palese i segni di una vecchiaia ormai decrepita perché? perché è un continente ad esempio in inverno demografico quando una civiltà non è più in grado di riprodursi cioè non è più in grado di avere quel numero sufficiente di figli tale da restare vitale è destinata a morire sono i segni di una morte imminente e noi siamo già in questa condizione cioè ci sono più morti che è nati il tasso di natalità necessario a mantenere in vita una civiltà una società eccetera è quello di 2,1 figli per donna quindi ogni donna europea dovrebbe fare almeno due figli e qualcuna ne dovrebbe fare anche il terzo questo per garantire la sopravvivenza proprio il mantenimento né la crescita né la decrescita il mantenimento della appunto di una società di una civiltà ecco i tassi di natalità europea sono molto inferiori ma decisamente inferiori e sono in costante calo questo cosa significa? Significa che non si fanno nemmeno i figli sufficienti per mantenere in pareggio il bilancio della popolazione quindi ci sono sempre meno europei gli europei si stanno estinguendo ci sono più morti che nati poi c'è il fenomeno immigratorio il fenomeno immigratorio è un altro aspetto di questa crisi dell'Europa perché? perché il fenomeno migratorio cosa comporta? comporta una sostituzione di popolazione cioè gli europei non si riproducono a sufficienza per mantenere nemmeno in pareggio il bilancio quindi ci sono sempre meno europei gli immigrati vanno a riempire quei vuoti demografici ma li vanno a riempire ovviamente portando la propria identità e siccome l'immigrazione è prevalentemente extraeuropea cioè sì ci sono anche non so i moldavi che vengono in Italia o non so ma sono fenomeni marginali la gran parte della immigrazione è extraeuropea e da un punto di vista religioso è extra cristiana cioè non sono cristiani sono o islamici o so hinduisti o Sikh se vengono dall'India eccetera quindi siamo di fronte a una sostituzione di popolazione con delle popolazioni extraeuropee e non cristiane questo ovviamente comporta che sempre più il continente geografico Europa non sarà più culturalmente europeo cioè la geografia resta quella non è che si spostano le terre ma da un punto di vista culturale non sarà più Europa cioè sarà geograficamente Europa ma la cultura presente sarà una cultura di matrice islamica di matrice induista di matrice insomma le varie le varie presente che sappiamo poi c'è un fattore che potremmo definire così economico cioè l'economia dell'Europa è in crisi ma non in crisi superficiale cioè uno potrebbe dire quest'anno è andata meglio al prossimo anno andrà peggio eccetera ma da un punto di vista strutturale e qui ci sono delle analisi interessantissime che ad esempio nel rapporto vengono fatte dal professor Battisti dove si evidenzia come l'Europa il sistema economico europeo basato sostanzialmente sulla importazione di materie prime la lavorazione di queste materie prime e poi diciamo il valore aggiunto è dato dalla capacità tecnologica europea che è superiore a quella di altre realtà oggi sia profondamente in crisi non solo perché l'Europa si è privata dell'accesso alle materie prime ad esempio russe ma anche perché proprio il meccanismo non funziona più e non funziona più perché perché l'Europa è concorrenziale dal punto di vista della capacità tecnologica ad esempio con gli Stati Uniti gli Stati Uniti e Europa hanno super giù lo stesso livello tecnologico però gli Stati Uniti hanno dalla loro una egemonia politica e militare e quindi gli Stati Uniti riescono a tutelare i propri interessi economici dove l'Europa invece non riesce e questo cosa comporta comporta un drenaggio potremmo dire così di di economia dall'Europa verso gli Stati Uniti cioè gli Stati Uniti occupano posizioni economiche in qualche modo erodono lo spazio economico dell'Europa tanto più che l'Europa non fa nulla per difendersi cioè l'Europa non vive cioè mentre gli Stati Uniti considerano l'Europa un concorrente e quindi lo trattano da concorrente cioè gli Stati Uniti se possono e quando vogliono lo fanno strappano mercato all'Europa portano via attività economiche all'Europa fanno sì che le industrie o le grandi attività economiche abbiano sede negli Stati Uniti non in Europa eccetera quindi quindi gli Stati Uniti agiscono in maniera concorrenziale con l'Europa l'Europa invece non agisce in maniera concorrenziale con gli Stati Uniti ma semplicemente non lo fa perché non può perché l'Europa è succube da un punto di vista politico-militare nei confronti degli Stati Uniti e quindi l'Europa subisce l'azione concorrenziale degli Stati Uniti ma non mette in atto nessuna scelta potremmo dire che bilanci questa cosa inoltre c'è la crescita esponenziale anche da un punto di vista della capacità tecnica delle nuove economie la Cina in primis e quindi l'Europa sta perdendo anzi forse lo ha già perso il proprio potremmo dire così primato il proprio primato anche tecnologico la propria capacità in qualche modo di essere leader proprio perché capace di fare cose che altri non sono capaci di fare e quindi siccome l'Europa è povera di materie prime perché la forza dell'Europa non sono mai state le materie prime l'Europa diciamo così se dovesse vivere delle proprie risorse sarebbe un continente povero quindi l'Europa ha necessità di procurarsi dall'esterno materie prime ma per poterlo fare deve avere una capacità di lavoro su quelle materie prime è superiore agli altri se no non c'è motivo che gli altri comprino i prodotti dall'Europa quindi la forza dell'Europa deve stare necessariamente nella capacità produttiva il problema è che oggi questa capacità produttiva è fortemente in crisi e questa crisi economica si lega strettamente con la crisi demografica perché i due fattori vanno potremmo dire così vanno insieme perché solamente una società giovane è vivace e produttiva economicamente una società di vecchi non ha queste caratteristiche solamente una società che cresce demograficamente cioè che ha tanti giovani è anche una società che in qualche modo è spinta a progredire economicamente a svilupparsi economicamente è solamente nell'aumento demografico che c'è in qualche modo il fattore trainante della crescita dei consumi della produzione eccetera eccetera quindi le due cose crisi demografica e crisi economica sono le due facce di una stessa medaglia che però dicono la profonda lo stato di profonda direi agonia in cui si trova il continente europeo ma non abbiamo ancora però visto il cuore del problema perché se è vero che l'Europa è in crisi demografica se è vero che l'Europa è in crisi economica se è vero che l'Europa eccetera 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 ma la ragione di tutto ciò e qui veniamo al punto la ragione di tutto ciò ed è questo potremmo dire così l'argomento principale diremmo che può portare il rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa curato dall'osservatorio è ovviamente di carattere culturale religioso cioè una civiltà muore o meglio si suicida perché qui stiamo parlando di un suicidio l'Europa non è che muore perché arriva non so Gengis Khan e ci stermina tutti quanti non è questo qui è una morte per suicidio o meglio per potremmo per inedia cioè l'Europa si sta lasciando morire ma questo perché avviene avviene perché quella civiltà quella realtà non ha più in sé le ragioni per vivere e l'Europa ha perso le ragioni per vivere nel momento in cui ha in qualche modo disconosciuto la propria identità abbiamo detto prima che l'Europa è nata ovviamente non dal punto di vista geografico che qui bisognerebbe chiamare appunto un esperto di come si sono formate le varie terre le montagne le pianure eccetera non parlo da un punto di vista geografico ma da un punto di vista della civiltà europea la civiltà europea è nata in ragione del cristianesimo e anzi dico di più come abbiamo detto come abbiamo visto prima è nata dallo scontro tra il cristianesimo e l'Islam perché dicevo prima la collocazione geografica del cristianesimo nel continente europeo non è originaria cioè non è dei primi secoli i primi secoli è il bacino del Mediterraneo il centro del cristianesimo senza nessuna differenza tra il nord Africa e la sponda europea tra non so l'Italia e la Siria eccetera quindi il il fatto che il cristianesimo si identifichi con l'Europa e l'Europa con il cristianesimo ha questa dimensione storicamente legata alla all'espansione islamica quindi l'Europa se noi dovessimo dire quando nasce l'Europa l'Europa nasce quando il cristianesimo diciamo greco-romano si scontra con l'Islam e quindi l'Islam potremmo dire così pone sotto di sé il Medio Oriente e il Nord Africa e il cristianesimo si colloca geograficamente nel continente europeo quindi l'identità dell'Europa cioè l'Europa non esisteva prima geograficamente sì ma non c'era una civiltà europea prima c'era la civiltà ellenistica c'era la civiltà latina ma che ripeto avevano una espansione mediterranea quindi la civiltà europea nasce così l'Europa esiste perché è quella cosa lì è la civiltà dei cristiani è il continente dei cristiani è il continente dove i cristiani si sono protetti si sono difesi dall'espansione islamica hanno costruito la loro arte la loro letteratura la loro musica la loro diciamo tutte le varie espressioni le forme del diritto eccetera ma ripeto i cristiani cioè è il continente dei cristiani della cristianità nel momento in cui l'Europa rifiuta questo e questo processo risale almeno a tre secoli fa almeno all'illuminismo ma a radici forse ancora più antiche pensiamo al razionalismo seicentesco pensiamo a tanti altri fenomeni nel momento in cui il continente europeo rifiuta se stesso cioè rifiuta la propria origine la propria identità ciò che è cioè ripeto il continente dei cristiani se noi dovessimo dire cos'è l'Europa l'Europa è il continente dei cristiani un tempo non si parlava di Europa si parlava di civiltà cristiana di cristianità ebbene quando questo avviene l'Europa lì inizia a morire perché non ha più una ragione per esistere che se l'Europa non è più cristiana se non è più il continente la civiltà dei cristiani cos'è? perché deve esistere? qual è la sua ragione? ovviamente questi processi sono processi lunghi che durano secoli quindi non è che nel 1700 l'Europa si è suicidata nel 1700 o forse anche prima l'Europa ha iniziato questo processo suicida che però all'inizio era un processo se vogliamo dire elitario cioè nel 1700 chi è che aveva le idee illuministe? una piccolissima minoranza forse lo 0,0% della popolazione cioè una sorta di elite intellettuale purtroppo che è stata capace di prendere il potere ma di fatto una micro percentuale della popolazione la grandissima massa della popolazione viveva ancora dentro schemi sostanzialmente di cultura contadina tradizionale cattolica cristiana questo processo però si è sempre più radicalizzato si è sempre più consolidato fino al punto di avere sradicato anche dal punto di vista delle masse quindi anche dal punto di vista della gran parte della popolazione l'Europa dalla sua identità cristiana oggi l'Europa non ha un'identità cristiana se noi ci guardiamo attorno certo vediamo molte cose cristiane ma perché sono l'eredità dei secoli cioè noi vediamo le chiese vediamo l'arte vediamo tante cose che sono prodotto del cristianesimo ma se noi guardiamo all'Europa d'oggi cioè guardiamo alla politica di oggi la cultura di oggi la musica di oggi il cinema di oggi non so il modo di vivere gli usi e i costumi di oggi la vita morale di oggi eccetera 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 beh l'Europa non ha praticamente più nulla di cristiano il cristianesimo oggi in Europa è un fenomeno di minoranza di micro di micro minoranza allora questa potremmo dire così questa scelta di scelta si può parlare però in fondo sì perché gli esseri umani insomma quando fanno qualcosa c'è sempre una componente di scelta diciamo questa scelta dell'Europa di rifiutare se stessa di rifiutare ciò che è cioè il continente dei cristiani il continente che si è che è nato perché i cristiani si sono concentrati lì e si sono difesi dall'espansione islamica se no saremmo tutti musulmani cioè se se non ci fosse stata la difesa cristiana dell'Europa l'Europa sarebbe islamica questo è pacifico come era diventata islamica la Spagna come era diventata islamica la Sicilia come era diventata islamica la parte sud dei Balcani eccetera quindi se nel momento stesso in cui l'Europa rifiuta a se stessa inizia a morire e tutti i processi che abbiamo visto cioè inverno demografico immigrazionismo eccetera sono dentro e sono figli di questa più radicale crisi di identità cioè il fatto che l'Europa non è più se stessa e questo è il problema e questa crisi dell'Europa profonda diciamo di identità oggi viene costantemente incrementata sostenuta promossa proprio dalle istituzioni europee cioè oggi siamo a questo paradosso che non solo c'è in atto un processo di morte dell'Europa ma questo processo di morte almeno nei suoi tratti essenziali viene promosso dalle istituzioni dei paesi europei e dalle istituzioni di quella che si è chiamata Unione Europea quindi noi oggi abbiamo il livello istituzionale che è l'attore principale della morte dell'Europa perché perché ad esempio sia le istituzioni comunitarie cioè dell'Unione Europea sia le istituzioni dei paesi di quasi tutti i paesi dopo ci sono alcune lodevoli eccezioni come ad esempio l'Ungheria però sono appunto delle eccezioni se no la norma vede le istituzioni dei paesi europei e della comunità europea dell'Unione Europea attivamente protagoniste in questo processo di distruzione dell'identità europea e dunque anche della distruzione poi materiale perché pensiamo ad esempio alle politiche contro la vita cioè se noi viviamo dentro un inverno demografico abbiamo detto che in Europa non c'è nemmeno il tasso minimo per il mantenimento della popolazione cioè la popolazione decresce cioè ci sono ogni anno sempre meno europei ebbene le istituzioni cosa fanno promuovono incentivano incrementano le politiche contro la vita pensiamo solamente all'aborto l'aborto viene ormai considerato un diritto in tutti i paesi europei cioè tutti i paesi europei tranne qualche ecco forse la Polonia ha una legislazione eh insomma che non ancora considera l'aborto un diritto ma tutti gli altri paesi europei hanno l'aborto eh legalmente riconosciuto consentito praticato eccetera e addirittura la Francia lo ha inserito in Costituzione cioè la Francia riconosce l'aborto come diritto costituzionale l'Unione Europea il Parlamento europeo ha votato perché l'aborto venisse inserito tra i diritti umani fondamentali cioè capite una un continente una civiltà che vive l'inverno demografico e che al posto di celebrare la vita cioè di celebrare la nascita la maternità eccetera celebra l'aborto afferma che l'aborto è un diritto addirittura un diritto umano fondamentale pensiamo ad esempio alla promozione della contraccezione cioè io penso che ormai in tutte le scuole europee si insegni a usare la contraccezione la cosiddetta educazione sessuale di fatto è quella pensiamo all'ideologia gender che è un chiaro attentato non solo alla vita ma all'identità perché nel momento in cui uno non sa nemmeno se è maschio o femmina figuriamoci che identità può avere e così via quindi noi siamo di fronte a il piano istituzionale dell'Europa che è il principale attore della distruzione dell'Europa stessa se poi ci rivolgiamo all'ambito dell'identità cristiana qui le cose sono ancora peggio perché perché ormai le istituzioni sia quelle dei singoli paesi che quelle appunto dell'Unione Europea sono tutte apertamente laiciste cioè non esiste ormai in Europa una azione pubblica a favore della religione un'azione politica che metta al centro l'identità cristiana non esiste quindi le istituzioni europee sono tutte strumento di secolarizzazione di laicizzazione quindi di distruzione dell'identità cristiana dell'Europa tutti questi processi sono un unico cioè sono aspetti diversi di un unico processo di suicidio dell'Europa l'Europa si sta suicidando si sta autodistruggendo e questa autodistruzione dell'Europa ha un impatto universale perché questi processi come dicevamo non riguardano una cultura che diciamo legata a un territorio solamente ma certamente sono legati a un territorio cioè l'Europa è geograficamente connotata ma per due ragioni da un lato perché abbiamo detto che l'Europa altro non è che il continente dei cristiani cioè il cristianesimo non è potremmo dire originariamente europeo ma diviene europeo perché perché l'Europa è il baluardo che difende il cristianesimo dall'espansione islamica quindi il fatto che l'Europa muoia vuol dire che muore in qualche modo il baluardo la rocca dove si è difeso il cristianesimo dove il cristianesimo si è fatto civiltà e muore e poi c'è un altro aspetto determinante l'Europa come abbiamo detto si è estesa oltre di sé quindi oggi noi possiamo dire che culturalmente l'Europa non è solamente in Europa ma è in Nord America in Sud America in buona parte anche in Africa in Oceania eccetera eccetera quindi qui c'è un problema perché se l'Europa muore ci sono due scenari o l'Europa muore solamente sul continente europeo e si salva da altre parti mettiamo si salva l'Europa da un'altra parte Europa qui intesa come civiltà oppure l'Europa inizia a morire nel continente europeo ma perché questo processo è globale quindi siamo di fronte ad una autodistruzione della civiltà europea nel suo complesso questi sono due possibili scenari uno più ottimistico e uno più pessimistico io direi così una via di mezzo che sicuramente la crisi che vive l'Europa non è delimitata dai confini geografici cioè la crisi che vive l'Europa la vive anche il Canada la vive anche l'Australia la vive anche non so il Brasile l'Argentina o gli Stati Uniti cioè con differenze locali ma di fatto è una crisi della civiltà europea è una crisi del di ciò che si è dato in Europa ma che poi si è diffuso in tante parti del mondo quindi è una crisi proprio di civiltà legata a quei processi iniziati almeno tre quattro secoli fa cioè con il razionalismo poi con l'illuminismo e poi tutta la cultura atea diciamo dell'Ottocento del Novecento eccetera quindi è un processo che va bene al di là dei confini geografici dell'Europa anche se ha il suo punto più evidente proprio nel continente europeo perché il continente europeo ce le ha tutte potremmo dire così le caratteristiche tutti gli inditti i sintomi di questa morte perché è un continente di vecchi perché è un continente economicamente che si sta spegnendo perché è un continente appunto che non che non ha più un'identità è un continente che è soggetto a una massiccia immigrazione di popoli extraeuropei eccetera 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 quindi diciamo che però sarebbe ingenuo pensare che il problema sia solamente dentro i confini geografici dell'Europa di fatto è una crisi di civiltà dall'altro lato però ci sono anche segni di speranza perché sia di speranza sul continente europeo perché ci sono anche per il momento piccole ma ci sono anche delle esperienze di incontro tendenza cioè di riscoperta delle radici di nuova evangelizzazione di consolidamento della fede di una anche vivacità culturale cioè quindi sono ancora delle micro minoranze ma insomma qualcosa c'è e poi soprattutto si può sperare nella potremmo dire così nella salvezza della civiltà cristiana al di fuori dei confini geografici dell'Europa sicuramente c'è un cristianesimo un cattolicesimo molto vivace e promettente ad esempio in Africa e anche con dei tratti di civiltà europea perché in molti paesi africani certamente le culture locali ci sono e hanno una loro storia una loro esercità ma sono intessute con ad esempio la cultura francese e quindi c'è una possibilità in qualche modo che sopravviva la civiltà cristiana la civiltà europea al di fuori del continente geografico dell'Europa ma anche ad esempio ci sono questi segni di rinascita cristiana anche in altri luoghi del mondo pensiamo ad esempio alla Russia la Russia che è Europa o meglio è parte Europa e buona parte Asia ma la Russia è dopo la stagione dell'ateismo bolshevico ha avuto una rifioritura del cristianesimo e non è semplicemente una questione meramente religiosa ma porta con sé una visione culturale quindi porta con sé una visione dell'uomo della politica della musica dell'arte della letteratura eccetera eccetera quindi si può sperare in una fioritura della civiltà europea ad esempio in Russia abbiamo detto dell'Africa qualcosa c'è anche in America Latina di promettente e c'è qualcosa anche negli Stati Uniti perché anche negli Stati Uniti ci sono dei segni di rinascita potremmo dire della civiltà cristiana per concludere cosa dobbiamo fare visto che noi viviamo anche geograficamente in Europa beh noi dovremmo fare tutto quello che è il nostro potere beh intanto per cercare di combattere questi processi degenerativi però le nostre porte sono poche siamo pochi e siamo anche debolucci e quindi sì fare tutto il possibile per cercare di arrestare i processi degenerativi ma soprattutto conservare il bene cioè fare come fa il contadino quando viene l'alluvione il contadino quando viene l'alluvione cosa fa non è che si mette a fermare l'acqua del fiume ma salva le sementi salva gli animali salva le masserizie eccetera aspetta che le acque si ritirino e quando le acque si sono ritirate risemina i campi ricostruisce il pollaio ricostruisce l'ovile eccetera eccetera e riprende a coltivare la sua terra quindi noi dovremmo fare un po' così salvare il seme della civiltà cristiana quindi della vera civiltà europea ed essere pronti a riseminare ricostruire una volta che come dire questa falsa Europa l'Europa atea l'Europa laicista l'Europa moralmente degenerata sarà crollata e sarà necessario ricostruire a partire dalle rovine grazie la chiesa insegna uno sguardo cattolico all'attualità per una vita all'insegna della verità di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio un'esercizio di un'esercizio